Ma ci dica un po' una cosa, dottore, proprio in questi mari di merda, è qua che si pesca il pesce più schifoso, no? Sì, è un pesce merda, chiaramente, è un pesce morsigliotto, si civa di merda, chiaramente. Ma è un pesce a lunga conservazione o a lunga durata? È un pesce meridionale, non è un pesce meridionale, questo è il problema. Là, vicino al pinguino, sarà un nostro inviato, Consefrae, che è il pinguino. Cosa vuol dire, cosa si può dire su questo fiume? Chi? Chi giova tutto ciò? Dunque, iniziamo col dire che qua il mare, anche il fiume che sforza, il mare è sempre più schifoso. Porta detriti di tutti i tipi, morti, viventi, topiche che allesano sul mare, sul fiume, sul fiume. Chiuderei con il nostro amico Marco Mantini e chiuderei con un'andare in quadratura sulla maglia. E buona scorreggia!